ciao a tutti sono luca oggi vi parlerò di assessment dei sintomi da stress l'assessment dei sintomi da stress è importante perché aiuta identificare i sintomi da stress individuo a identificare le loro cause gli effetti ed adottare le misure necessarie per affrontarli lo stress può essere una forza distruttiva nella vita delle persone quindi riconoscerlo e affrontarlo è di vitale importanza l'assessment dei sintomi dello stress può aiutare un individuo a riconoscere i sintomi può aiutare a prevenire la sofferenza emotiva e fisica che lo stress può causare inoltre un assessment dei sintomi da stress può aiutare a individuare i fattori di rischio che possono portare allo stress e aiutare a sviluppare strategie giuste per gestirlo i sintomi a stress sono ansia cefalea irritabilità nervosismo palpitazioni aumento della sudorazione aumento questo è la frequenza cardiaca difficoltà di concentrazione problemi di sonno irrequietezza diminuzione dell'appetito e dolori muscolari grazie a tutti grazie a tutti